buongiorno ragazzi movie maker per voi e oggi si si avvicina agli oscar e si parla di parasite è già un poco l'ho visto in diretta da Bong Joon-ho allora premessa Bong Joon-ho è un regista che io ho conosciuto per caso a un certo punto non mi ricordo su internet dove vedo sta locandina di The Host guardo il trailer mi sembrava molto interessante compro film a scatola chiusa non sapevo nulla né di Bong Joon-ho e né del film film che ho ancora adesso veramente stupendo diciamo un film d'azione un po' di fantascienza di una creatura da lì in avanti ho capito che la Corea è viva e che i film coreani hanno un futuro Bong Joon-ho più avanti diventerà comunque uno dei registi performati soprattutto nei film stranieri con Snow Pierce, Hokia in esclusiva per Netflix che ragazzi il vento di dire non l'ho ancora visto ma devo assolutamente recuperare è questo parasite questo parasite candidato ai prossimi oscar a sei premi ha vinto poco tempo fa ai saga scatola come miglior cast corale e tanti dicono che quando un cast vince quel premio lì è odora di miglior film agli oscar vedremo vedremo io poi il 2 febbraio farò le mie pronostici per gli oscar e quindi vi dirò il mio parere ricordiamo che per gli oscar mi manca ancora da vedere 1917 e piccole donne allora Bong Joon-ho ha fatto anche la sceneggiatura la produzione e la regia di questo film allora parasite è incredibile per come ci racconta la sua storia questa storia di questa famiglia di quattro persone padre madre figlio e figlia che sono veramente dei disparati vivono in periferia in questa corea veramente non hanno niente non hanno rubano wireless vivono di espedienti l'unica cosa positiva e che sono molto uniti e questa cosa infatti sarà molto importante per lo svolgimento della storia faccio solo questa premessa per poi e non vi racconto fin vi dico tanto questo ve lo devo raccontare il miglior amico di del figlio del protagonista chiede al figlio di questa famiglia se può per un periodo deve andare a fare diciamo il supplente apposto su a una ragazza in una famiglia di altolocati in corea lui all'inizio un po scelto e con certo punto deciderà di farlo di dare ripetizione di aiutare anche se in realtà non è il suo ruolo e da lì inizierà tutto in parte un pochino si innamorerà della figlia del di questa coppia di di questa coppia di personaggi ricchi e da lì davanti inizierà tutto un suseguirsi di eventi e di cose che poi porteranno a sconvolgenti verità che non sto assolutamente a dire perché il film punta tantissimo su questo dove verranno pian piano introdotti a due a questa famiglia una alla volta la sorella il padre e la madre non dico altro tutto questo è incredibile come viene raccontato con quella surrealità ma che comunque in parte è molto realistica dialoghi taglienti scritti benissimo e scenografie comunque ben fatte un montaggio magnifico di questo film c'è un'energia impeccabile di buong jiang vu scusate ma questa non è una novità uno humor nero a tratti può anche far ridere a tanti e inquieta c'è incredibile cosa si inventano questa famiglia per andare avanti è tutto avremo conoscenza di padre madre il figlio figlia la governante di questa famiglia e poi verso la parte del film il film prenderà una certa piega che secondo me è assolutamente inaspettata che poi arriveremo al finale parassai penso voglio dire parassita inteso che comunque loro sono dei parassiti ma possono essere consigliati dei parassiti comunque anche altre persone all'interno di questo film vi consiglio assolutamente di vederlo perché uno dei migliori film del 2019 veramente fantastico guardatelo lasciate perdere il discorso che sono coreani perché non c'entra niente io sono sicuro che in questo film faranno la versione americana più avanti oppure di qualche altro stato è un film che ti trascina vola ti sa prendere ti rende partecipe all'interno della sua pellicola e ve lo consiglio con tutto il mio cuore mi è piaciuto tantissimo candidata a sei oscar ai golden globe comunque non è andato male non so se sarà se potrà vincere però di sicuro mi rimarrà un film che mi ricorderò sempre mi aveva colpito all'epoca al 3 di questo film ma non così tanto da essere scritto magari andare poi mi ha scritto ovviamente le critiche il 96 per cento su rotta and tomatoes e che ora non mi ricordo quanto la percentuale ma comunque altissima anche su metà critiche dove comunque per rimanere alti come le recensioni dei critici non è facile non so quanti premi internazionali ha vinto questo film ovviamente ha vinto il miglior film stranieri golden globe è quasi sicuramente vince la miglior film stranieri anche gli oscar ve lo consiglio è un modo che conosceva un regista veramente eccezionale è un film veramente eccezionale va bene ragazzi ovviamente approvato da movie michael se questo video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale attivate la campanella se non volete perdere nessun nuovo video e seguitemi su instagram io vi ringrazio come sempre tutto il cuore e alla prossima ragazzi ciao ragazzi